Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo tip del blog della Mela quest'oggi tip che penso possa essere molto utile a chi voglia andare a modificare o aggiungere documenti alla cartella libreria all'interno di Lion come ben sappiamo e come possiamo andare a vedere ad esempio quando ognuno va nella propria cartella iniziale fino al Snow Leopard c'era anche la cartella libreria invece qua come vediamo è stato deciso di non mostrarla perciò non è qui presente come possiamo fare appunto per poterla vedere e perciò quindi poter andare a modificare determinati file comunque anche in risposta ai miei vecchi video dove appunto indicavo la procedura dove andare a modificare anche i contenuti all'interno della libreria prima di tutto vorrei ringraziare l'utente Picchio7 che appunto mi ha dato il consiglio il consiglio appunto per poter mostrare e poter vedere la cartella libreria quello che c'è da fare è molto semplice questi sono i comandi scritti in grande così in modo totale che capiamo tutti quanti ci vediamo abbastanza bene quello che dovremmo andare a fare appunto sarà andare ad aprirci il terminale una volta che sarà utilizzato a parte il terminale dobbiamo scrivere il codice chflex spazio no hidden il carattere quello lì scrivizzo che si fa per andare ad appunto il tasto alt perciò bisogna tenere appunto il tasto alt 5 slash library slash diamo l'invio e adesso se proviamo in find ad andare ad aprire la nostra cartella iniziale come potete vedere eccoci qui è apparsa la cartella libreria dove appunto qui si può andare a recuperare a prendere tutti quanti i dati vari ed eventuali perciò come vedete vedere adesso su il proprio inizio dove c'è la vostra cartella di inizio del vostro utente troverete la libreria qui potete fare tutte le necessarie modifiche che dovete fare in quel caso lì era per quanto riguardava la firma con immagine senza l'allegato di email con questo procedura va bene per tutte quelle altre situazioni in cui dovete andare a aggiungere o controllare o cancellare o modificare dati al suo interno comunque sempre qua dovuta cautela perché comunque stiamo parlando della cartella della libreria di sistema che serve per far funzionare il computer una volta fatto questo basterà semplicemente di scrivere chflex cioè se volete di nuovo avere tutto quanto ben organizzato scrivere il codice però posso scrivere nohidden si scrive solo hidden si ripete tutto quanto in dotare l'operazione e si dà un'altra volta l'invio da terminale e come andremo ad aprire ancora di nuovo il cartello iniziale come vedete la cartella libreria è sparita perciò alla fine quello che ci serve appunto è solo avere questi codici che troverete qui sotto nella descrizione del video chflex nohidden scrivizzo scusatemi se lo chiamo così ci sarà il nome tecnico in questo momento mi sfugge e nel caso vogliate farlo di nuovo scomparire la cartella libreria basterà cambiare la frase la digitura prima con da nohidden a item ringrazio ancora PTO7 per questa delucidazione e ci sentiamo al prossimo tip ciao